Scusate, vi posso dire, per favore, perché sennò sento solo voi. Le biografie sono state dapprima un buon rifugio per me e un buon bacino di felicità o di incoraggiamento. Mi sono chiesto come è possibile trovare l'energia e il coraggio di vivere, nonostante tutto quello che uno nella vita può dover affrontare. E ho scoperto che tutto sommato poi la nostra contemporaneità era meno strana o difficile di tante altre epoche, di tante altre. E che poi in fondo le biografie in qualsiasi epoca, in qualsiasi parte del pianeta, comunque hanno grandi temi che prescindono dalla contemporaneità che l'essere umano vive. Adesso il festival assomiglia molto a quello che io desidero, ma negli anni di passaggio, come in tutte le adolescenze, c'era un rapporto di dolore. Perché ovviamente quello che tu immagini in un modo e crei in un modo, poi viene reinterpretato dalla persona a cui lo affidi, che probabilmente quando lo affida a sua volta a qualcun altro diventa un telefono senza fili. Per cui certe volte devi tornare ciclicamente, devi tornare nella struttura per scoprire che ci sono delle cose che non hanno più senso o che bisogna cambiare. E devi anche però accettare che la cosa che puoi cercare di trasmettere è il senso di quello che tu desideri, in termini di accoglienza, proposta culturale, modalità, ritmo del festival, della visione, dello stare assieme. Ho imparato nel tempo che questa cosa non si può fare con chiunque e che quindi o trovi delle persone che sposano questa modalità, oppure il modo di tenere il festival come lo vuoi tu è scegliere persone con cui tu ti senti a tuo agio rispetto alle modalità, ma non perché fanno le cose come le vuoi tu o come è scritto, ma perché interpretano nel loro modo di fare le cose il festival senza farti vergognare di quello che stai facendo. I Wonder Pictures nasce per trovare un pubblico e per trovare un pubblico per la linea editoriale di Biografilm e per questo è anche molto facile per me sapere che cosa può o non può fare I Wonder Pictures, perché c'è un contesto culturale che precede e che esiste come comunità grazie al festival. Credo quindi che sia abbastanza un'esplorazione, un laboratorio quello che I Wonder sta facendo, sia in termini di invenzione di nuove possibili opere cinematografiche indistribuibili che invece trovano distribuzione, sia per quanto riguarda per esempio il progetto delle Wonder Stories e quindi una certa ripetitività e continuità della relazione col pubblico che trova in sala una storia al mese. Il film non esiste in sé, soprattutto se lo devi adattare nel tuo paese da un'altra lingua, da un'altra cultura, da un paese lontano. Il film esiste, è come un blocco di legno in cui tu immagini una figura, vedi che puoi tirarci fuori qualcosa e cominci a lavorarlo e se lo sbagli lo butti e tu puoi uccidere un film. Cioè tu puoi con la scelta sbagliata, con la data sbagliata, però puoi anche invece farlo prosperare. Credo che la passione per un film fai in modo che almeno non sia mai tempo buttato, quindi se fai film della tua passione almeno ti diverti e non perdi tempo. Io cerco di prendere i film su cui sento che abbiamo la chiave di interpretazione e che potremmo aggiungere qualcosa. Credo che poi il bello sia proprio questo, cioè la possibilità di dire attraverso un film una cosa che in questo momento culturalmente vuoi dire al pubblico. E quindi i film diventano, per una casa di distribuzione come i Wonder, come delle parole di una frase che vogliamo raccontare. È come se noi trovassimo i film per parlare delle cose che ci interessano in questo momento. Credo che sia un lavoro, quello del direttore artistico di manifestazione culturale, di grandissima responsabilità. E al contempo di grandissimo potere perché puoi veramente far vivere un'esperienza come la immagini tu a decine di migliaia di persone. E questo per me è entusiasmante. Quando metti assieme 400 persone di cinema che già solo si conoscono tra loro e magari si confrontano su quello che stanno immaginando di fare, fai un atto creativo per me inebriante. Tra le cose fondamentali che il cinema sta riscoprendo, l'aspetto dell'evento e della... Visto che noi non abbiamo il live, che è stato il rifugio della musica, il cinema può sicuramente, in questo momento, vista anche l'esiguità dei numeri, sostenersi attraverso momenti speciali e proiezioni che sono impreziosite da altro, come in realtà succede nei festival cinematografici. Io credo che gli anni in cui viviamo e quello che viene, soprattutto professionalmente, meno dal punto di vista magari di cittadinanza o politico, ma professionalmente porti tutti quelli a cui ancora sarà concesso di avere un lavoro, che saranno pochi, ma dovranno lavorare molto, ad avere proprio l'obbligo, il compito di farsi delle domande, perché anche la competizione rispetto all'interpretazione delle innovazioni è talmente sfidante che basta che cambi l'algoritmo di Facebook che in tantissimi si devono chiedere se bisogna cambiare il modo di comunicare. Bisogna stare in una giusta distanza, in una giusta previsione del possibile e cercare di porsi delle domande e cercare anche di trarre le conseguenze delle cose che succedono, perché ovviamente c'è sempre l'opportunità di esprimersi e di esprimersi creativamente, ma cambia a seconda di come si organizza gli strumenti della produzione. Grazie. Grazie. Grazie.